A questi ritmi, comunque sono contento, la squadra è stata in questi giorni, nonostante la mia condizione non è eccezionale, molto vicino a me, quindi era giusto provare di vincere. No, la vera è che era giusto provare, provaste il Dio di Santo Cristo, non avevi la misma fortuna e forza che oggi, però io ho volto a incontrarti con questa Vuelta a Murcia, a la che tu tienes un amore special, no? A la Vuelta a Murcia, quizà perché hace due anni ti rincontraste contigo mismo aquí, no? Sì, diciamo... Sì, 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 e due anni fa è stata la mia prima corsa dopo il mio infortunio e quindi due anni fa mi presero qui proprio quasi all'arrivo, perché l'arrivo era un po' più in giù, era circa... In Totana, sì, in un'altra città, però quasi, molto parecido a... E mi presero proprio qui e quest'anno è andata meglio e sono contento. Eh, bueno, come decías antes, sono tus primeras esperiencias della temporada, una temporada che se presenta absolutamente agotadora per Marco Pantani, perché sono mucho los obiettivos e los retos deste año, no? Sì, gli obiettivi sono tanti, diciamo che adesso si cerca di guardare al Giro d'Italia, cercando di lavorare bene, questa vittoria è importante per il morale, però i miei obiettivi sono il Giro e poi vedremo. Eh, gusta uno verse ganare, no? Mañana 28 segundos, tienes de ventaja sobre Javier Pasquale Rodríguez, serán suficientes en 13 km contro il reloj? Ma, eh, non so, eh, per me è importante avere vinto una tappa e non sono venuto qui per vincere il Giro e domani faremo il possibile, però senza... senza troppo... senza troppi problemi. L'anno passato, tu primera vittoria, fue en la Vuelta a Murcia, ganaste il Giro d'Italia e il Tour de Francia, quest'anno las cosas empiezan bien, no? Speriamo bene. Grazie, Nora Buenamarco. Grazie per il placer che sempre nos trasmite questo magnifico corredore che è Marco Pantani. E grazie anche a tutti i nostri compagnieri per questi minuti di più che ci hanno concedito per poter parlare con il fabuloso corredore che è Marco Pantani. Recuerde, il leader della General con 28 secondi di ventaja sobre Javier Pasquale Rodríguez. E ricuerde, mañana di 12-4 a 1-4, estaremos con tutti voi da Murcia per mettere il punto final a questa meravigliosa Vuelta a Ciclista a Murcia. E va bene. E자는 tremble. E a chiama Tio orogando la General con 23 secondi di ventaja sui analizzati per i tempi. Emanuele dei d cracks qui sono hanno connesso per querem. Emanuele approf борileri nos distingui la